Oh, c'è alzato! Figlio di puttato! Uno! Vai! Vai! Vai, è partito! Ciao a tutti ragazzi, siamo i Devincio Su! E oggi facciamo la partitazione con... Vi ha la costi di Rachele, facciamo la Crossbar Challenge e vediamo quale dei due canali avrà la meglio. Esatto. Va bella. Purtroppo Rico non è potuto venire perché non si è finito bene, quindi siamo solo noi due. Ciao Rico! Guardi ci presto! Mamma mia! Ciao! Ciao! Berto Carlo Berto Carlo Berto Carlo Berto Carlo Berto Carlo Berto Carlo Berto Carlo